Il premio Oscar per il miglior film straniero Departures L'orchestra è sciolta Vorrei tornare al mio paesino, a Yamagata Assunto Eh? Aspetti, aspetti un attimo Quindi in pratica cosa? Il tanato esteta Tanato esteta? Preparare i corpi e adaggiarli nella cassa E alla fine che lavoro dovrei fare? Organizzano cerimonie Feste di nozze? Mi dai una mano? Sollevali i piedi Sollevali ho detto! Vedrai che ci farai l'abitudine Io credo che tu sia nato Si è detto di rabbonirmi, lasci stare Ho scoperto che lavoro fai Trovati un altro lavoro Non toccarmi! Ma... Porco immondo! Pur nella tristezza dell'ultimo addio Quanto viene eseguito per preparare il defunto Immersi nel silenzio pieno di pace Voi oggi avete reso mia moglie Bella com'era da viva Vuoi provarci tu? Si E' una storia molto bella Chi te l'ha raccontata? Mio padre Prima fate figli e poi li abbandonate Non metteteli al mondo allora! Stai insieme a tuo padre almeno alla fine Grazie a tutti!